Il sabato giochiamo contro la Gardonese, giochiamo in casa a Bienno. La Gardonese è una squadra abbastanza esperta, è una squadra che sbaglia poco e comunque su cinque partite è l'unica sconfitta e l'ha avuta contro il Villanueva, quindi non sarà affatto una semplice partita. Da parte nostra sono contento perché finalmente rientra Tomasi, anche se chiaramente non può essere al cento per cento perché dopo questa ferma un due settimane dovrà andare a prendere il ritmo gara e poi siamo sempre ancora in attesa che rientri il secondo palleggio, quindi porteremo come secondo palleggio ancora Conti in panchina sperando di non dover utilizzarla. Posso dire che abbiamo lavorato bene in settimana, sono molto fiducioso perché comunque le due vittorie ci ha portato fiducia nei nostri mezzi, le ragazze stanno vedendo bene e speriamo che riusciamo a rimanere con la testa sulla partita e soprattutto dare una continuità di quanto abbiamo fatto. Di certo noi dobbiamo cercare di ridurre molto i nostri errori ma senza snaturare il nostro gioco e questa è un po' la difficoltà che abbiamo in questo momento qua e stiamo facendo dei buoni progressi, quindi sono abbastanza fiducioso a partire di sabato e anche se magari non ce la faremo a livello di risultato penso che sarà una buona prestazione, questa è la sensazione che ho allenando questa ragazza qui in settimana.